Ancora solo un falò prima del confronto finale. Mi muovo adesso un andrei, ma senza passare là. Poi iniziano i weekend a sogno con i singoli. Il fuoco lo sento da dentro. Accadranno cose che potrebbero cambiare radicalmente il loro percorso a Temptation Island. Lunedì in prima serata su Canale 5.